L'energia è un viaggio straordinario, come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra, metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Il Motor Show, lo spettacolo acrobatico itinerante, arriva a Prato dal 5 al 15 aprile presso i parcheggi Omnia Center. Per tutti gli appassionati e emozionanti esibitori turistiche, con Statman professionisti specializzati in track estremi e piloti acrobatici. Al Motor Show potrai salire in macchina con Statman per vivere direttamente il brivido della velocità e dei motori. Data medica Montecatini, dal 1975, accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica. Ambulatori specialistici convenzionati e privati. Centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle terme di Montecatini. Data medica Montecatini. Disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Sillab è in realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. Noi di Mucchi siamo così. Siamo toscani. Mangiare bene ci sta a cuore. E anche le nostre mucche. Abbiamo a cuore la qualità. Non siamo maniacali, eh! Facciamo solo 500.000 controlli l'anno! E abbiamo a cuore l'ambiente. Sì, a confezioni prevalentemente da fonti rinnovabili e naturali. Mucchi. Abbiamo a cuore. Mucchi. Abbiamo a cuore.